Ciao a tutti e benvenuti sul canale GIM, Giri in moto. In questo video vi mostrerò come creare un file GPX dalla pianificazione di un itinerario attraverso Google Maps. È molto semplice, infatti basta andare a creare il percorso su Google Maps, inserire una destinazione, cliccare su indicazioni stradali e inserire il punto di partenza. A questo punto Google ci pianifica il nostro itinerario, quindi da Milano ci fa arrivare a Genova seguendo questo percorso. Ora noi andiamo a cliccare su dettagli e successivamente cliccheremo sull'icona di condivisione. A questo punto ci si apre un pop-up con il link della mappa. Andiamo a cliccare su copia link e andiamo sul sito maps2gpx.com. Il link ve lo inserisco in descrizione. Ora inseriamo all'interno di questo box il link precedentemente copiato. Clicchiamo su Let's Go e come vedete il sistema ci chiede dove salvare il nostro file. Ora io per comodità e per una questione di ordine vado a inserire il nome della destinazione di questo itinerario. Salvo e in questo momento sto scaricando il file GPX che questo servizio mi ha appena generato. Ora il file è pronto per essere installato, quindi caricato, all'interno del vostro dispositivo GPX. Se il video ti è piaciuto metti un like oppure scrivici anche nei commenti, ma soprattutto iscriviti se non l'hai già fatto. Ciao e a presto!